Ciao, sono Marco, ho pubblicato un libro con Bookness, con Emanuele Properzi, e ho scoperto un insieme di professionisti che già dal sito si capiva che avevano un'offerta valida. E Emanuele mi ha guidato per mano fino ad arrivare alla pubblicazione. È stato un professionista molto scrupoloso e puntiglioso, e siamo quindi riusciti ad arrivare a un risultato che ritengo soddisfacente. E quindi ringrazio lui e il suo team per la pazienza e per l'entusiasmo messo, perché comunque nel libro c'è anche quello.